In questa lezione impariamo come si cerca una soluzione particolare dell'equazione non omogenea quando il termine noto è un polinomio. A questo scopo utilizziamo di nuovo il metodo di somiglianza. Per fare questo osserviamo che, come accade per le funzioni esponenziali, anche nel caso dei polinomi, quando in ingresso inseriamo un polinomio y di t di grado n, n, l'operatore L produce di nuovo un polinomio. Più precisamente, se y di t è un polinomio di grado n, allora la sua derivata prima è un polinomio di grado n-1, la sua derivata seconda è un polinomio di grado n-2 e quindi ay² più by' più cy è a sua volta, in generale, un polinomio di grado n. Quindi se f è un polinomio di grado n, cercare una soluzione particolare che somiglia alla forzante significa cercare un polinomio di grado n. Vediamo un esempio. Cerchiamo una soluzione particolare di questa equazione, y' più 2y' meno 3y uguale t quadro meno 2. In accordo col metodo di somiglianza, cerchiamo un polinomio di secondo grado. Anche se il termine noto t quadro meno 2 non contiene il termine in t, dobbiamo comunque partire da un polinomio di secondo grado più generale possibile, cioè yp di t uguale a t quadro più bt più c, con a, b e c da determinarsi in modo che sia una soluzione particolare. Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda, sostituiamo nell'equazione e otteniamo. facciamo i conti. Vogliamo che questa sia un'identità per ogni valore di t. Allora, per il principio di identità dei polinomi, il polinomio al primo e al secondo membro devono essere uguali, e lo sono, se i coefficienti relativi ai termini dello stesso grado sono uguali. Allora, questo ci porta sostanzialmente a un sistema lineare. Allora, scriviamolo. 2a meno 3a uguale a 1, 4a meno 3b uguale a 0, perché il termine in t non c'è, e 2a più 2b meno 3c uguale a meno 2. Risolviamo il sistema lineare e quindi otteniamo a uguale meno 1 terzo, b uguale meno 4 noni, c uguale 4 su 27. A questo punto sostituiamo a, b e c in yp di t e otteniamo meno 1 terzo t quadro meno 4 noni t più 4 ventisettesimi, che è una soluzione particolare dell'equazione completa. Generalizzando quanto visto nell'esempio, possiamo dire che per trovare una soluzione particolare di un'equazione differenziale, con forzante polinomiale di grado n, si deve partire dal più generale polinomio di grado n, ovvero da una funzione in questa forma, dove gli n più 1 coefficienti βi sono da determinare. Calcolando le derivate prima e seconda, sostituendo un'equazione e imponendo che questa sia un'identità, troveremo un sistema lineare di n più 1 equazioni nelle n più 1 incognite β0, β1, βn. Risolto questo sistema, viene determinata una soluzione particolare. Questa regola ha una sola eccezione, cioè esiste un solo caso in cui, usando come funzione di prova un polinomio dello stesso grado della forzante, non si riesce a determinare una soluzione particolare. Fissiamo le idee con un esempio e cerchiamo una soluzione particolare dell'equazione y' più 2y' uguale 3t. La forzante f uguale 3t è un polinomio di grado 1. In base al metodo visto proviamo a cercare una soluzione che sia un polinomio di grado 1, cioè at più b con a e b da determinare. Calcolando le derivate e sostituendo nell'equazione troviamo 3t meno 2a uguale a 0. Ovviamente questa non è un'identità per nessuna scelta di a e b. Cosa è successo? Osserviamo che nell'equazione differenziale manca il termine lineare in y, perché c è 0. Di conseguenza, la funzione in uscita non è un polinomio di primo grado. Per avere in uscita un polinomio di grado 1, dobbiamo mettere in ingresso un polinomio di grado 2. Proviamo quindi a correggere l'aspetto della soluzione cercata ponendo yp uguale a t al quadrato più bt più c. Ragionando come prima si trova facilmente questa equazione. Imponendo che questa sia un'identità troviamo un sistema lineare che ci permette di determinare le costanti a e b. Notiamo che c è rimasto in determinato. Di nuovo, il motivo è che la funzione incognita yp, in questo caso, compare nell'equazione solo attraverso le sue derivate. Quindi la costante additiva, qui, è irrilevante. Un altro modo per vederlo è osservare che, di fatto, in questo caso, le funzioni costanti sono soluzioni dell'equazione omogenea e, come ben sappiamo, se abbiamo una soluzione particolare dell'equazione completa, anche la sua somma con una qualunque soluzione dell'equazione omogenea lo è. Possiamo, in definitiva, scegliere c uguale a 0 e concludere che 3 quarti t quadro meno 3 quarti t è una soluzione dell'equazione differenziale non omogenea. A posteriori scopriamo che la soluzione particolare, pur essendo f un polinomio di primo grado, aveva la forma t per at più b, ossia la forma di un polinomio simile a quello a secondo membro moltiplicato per t. Quanto detto vale, evidentemente, in generale e quindi il metodo di somiglianza non è applicabile al caso dei polinomi se manca il termine di grado 0 nell'equazione omogenea. In questo caso, bisogna inserire un polinomio yp di grado n più 1. Se poi nell'equazione mancano sia il termine y di t che il termine y' di t, l'operatore a primo membro è semplicemente a per y' di t, che abbassa di 2 gradi il polinomio. In questo caso, quindi, per f di t polinomio di grado n, dovremo cercare una soluzione particolare del tipo yp di t uguale t al quadrato pn di t, con pn polinomio di grado n. Oppure, naturalmente, integrare direttamente per due volte. Riassumendo, nel caso di forzante f di t polinomiale di grado n, il metodo di somiglianza fornisce sempre una soluzione particolare di tipo polinomiale. Questa sarà di grado n se c è diverso da 0, di grado n più 1 se c è 0 e b è diverso da 0, infine di grado n più 2 se sia c che b sono nulli. Grazie a tutti.